Buongiorno e ben ritrovati, iniziamo oggi un nuovo argomento, cioè gli esercizi con gli amplificatori operazionali. Ovviamente la prima parte sarà tutto un trattato di amplificatori operazionali di tipo ideale. Da cosa sono caratterizzati? Gli amplificatori operazionali sono costituiti da diversi stadi all'interno piuttosto complessi, che però poi vengono praticamente agli occhi dell'utilizzatore integrati, tutti appunto in circuito integrati. Quindi è un discorso che l'operazionale è comodo perché occupa pochissimo posto e si trova integrati assolutamente con costi accettabili e ha degli ottimi vantaggi, nel senso che esiste quello ideale e poi vedremo quello reale, ma in prima approssimazione qualsiasi che utilizziamo e che compriamo tranquillamente non si commettono grossi errori andando a considerarlo come ideale. La differenza tra i due, o meglio che cos'è che caratterizza l'amplificatore operazionale di tipo ideale è il fatto di avere un guadagno di tensione ad anello chiuso che tiene conto solo delle resistenze della configurazione esterna e non dei parametri interni, un guadagno ad anello aperto pressoché infinito, una resistenza di ingresso anche qua praticamente molto alta, quindi tendente all'infinito, una resistenza di uscita praticamente nulla e il discorso di avere una relazione che quindi lega l'uscita con l'ingresso, quindi il discorso di avere un'amplificazione, un guadagno di tipo positivo. Ha inoltre una larghezza di banda pressoché infinita e altri vantaggi che poi andremo a vedere poi nella parte reale che cos'è che va ad influenzare invece quale sarà poi la differenza tra l'ideale e il reale, quindi tutto il discorso di offset e via dicendo. Allora, affrontiamo questo primo esercizio. Allora, qua abbiamo una tensione, un segnale di ingresso di tipo sinusoidale che è pari a 0,5 seno di ωt, lascio indicato ωt perché tanto tutto quello che sono le tensioni e le correnti saranno sempre di tipo sinusoidale e avranno sempre il discorso dello stesso periodo, stessa frequenza e stessa pulsazione, ci sarà solo eventualmente un ritardo quindi uno sfasamento e vogliamo andare con questi valori a disegnare la tensione di uscita. Allora, avremo anche del generatore di ingresso il valore della resistenza interna del generatore che mettiamo sia 500 Ohm. Come andiamo a relazionarci qua? Allora, diciamo che la relazione dell'amplificatore è in questo caso invertente perché il segnale è sull'ingresso meno non sto a fare tutto il discorso del fatto che più e meno sono lo stesso potenziale quindi il più è collegato a massa, quindi questo diventa una massa virtuale quindi si può fare un giro di maglia dell'ingresso chiuso nella massa qui e l'altro dell'uscita con R2 poi eguagliando insomma viene la relazione classica quindi il guadagno di tensione, in questo caso oltre a esserci la R1 dobbiamo tener conto anche della resistenza interna del generatore quindi in realtà il mio guadagno sarà oltre al fatto di essere meno perché l'uscita rimane sfasata rispetto all'ingresso poi qua abbiamo la resistenza di retroazione quindi messa tra uscita ed ingresso e qua dovremo andare a mettere oltre a R1 anche la nostra RS quindi semplicemente solo questo rispetto alla formula normale quindi qua andiamo a sostituire avremo 10k fratto praticamente 2,5k semplifichiamo e mi viene meno 4 quindi questo è il mio guadagno di tensione quindi avremo che l'uscita sarà uguale, anzi il suo valore massimo perché poi andiamo prima a calcolare calcoliamo il valore massimo sarà dato dal meno 4 per 0,5 che è il valore e quindi sarà meno 2 meno 2 volte la sinusoide sarà quindi una sinusoide ecco qua l'uscita sarà quindi 2 valore massimo ovviamente qua il discorso seno di omega t e qui andiamo ad introdurre lo sfasamento di 180 gradi poiché sappiamo che l'una è rispetto cioè con il segnale sull'ingresso invertente abbiamo in uscita uno sfasamento di 180 gradi che andiamo a scrivere qua se vogliamo andare a fare il nostro disegno dell'uscita come ci è richiesto avremo più o meno una cosa fatta in questo modo e così via che avrà lo stesso periodo del segnale d'ingresso e qua avrà valor massimo e valor minimo che saranno appunto più 2 e meno 2 questa è la mia Vout nel tempo e questo sarà il mio segnale nel tempo qui appunto non è specificato il discorso del periodo se no si sarebbe messa la stessa pulsazione bene, con questo l'esercizio è concluso questo primo esercizio spero di essere stata chiara ci vediamo per un altro esercizio domani grazie a tutti grazie a tutti